A voi tutti ben ritrovati amici di Rete 7, amici del Piemonte, del nord ovest in generale, come sempre eccoci qua e ben ritrovati. Calano un po' le temperature, quindi clima più fresco, anche se per poche ore, ma comunque temperature in generale calo e anche generale miglioramento. Tuttavia nella prima parte della mattinata ancora avremo dei rovesci di pioggia, anche di moderata intensità, sul Piemonte più settentrionale e in linea generale sui rilievi alpini, anche appenninici, con nevicate, visto che la quota neve è più fresca, la quota neve appunto cala, nevicate dicevo oltre 1.000-2.300 metri. Sul resto del territorio, soprattutto col passare delle ore, schiarite, variabilità, maggior variabilità ecco. Guardate le temperature in calo, sia nei valori minimi che nei valori massimi, ma soprattutto guardate nei valori minimi, con massimi, o minimi anche attorno ai 5-8 gradi. È tutto cari amici, io non ho altro da aggiungere, buon proseguimento, arrivederci.